Gli inquirenti non hanno ancora trovato una traccia che possa dare un nome o un volto all'individuo che alle 4 del mattino ha ucciso Mara Calisti con una coltellata al petto. L'unica persona presente in casa, il padre della vittima, Mario, di 74 anni, dormiva e non è in grado di fornire alcuna indicazione. I carabinieri hanno cercato a lungo tracce di estranei in casa all'ora del delitto. Si dovrà accertare se l'assassino era una persona conosciuta fatta entrare dalla vittima o se invece si tratta di un ladro o di un maniaco che si è introdotto furtivamente nell'appartamento. Il magistrato sta interrogando amici e conoscenti della vittima per cercare un possibile movente ma non è facile. La vittima è conosciuta da tutti come amante della famiglia e del lavoro, conduceva una vita regolata, unico svago erano il trekking e l'alpinismo, un fatto che non aiuta certo gli inquirenti. Le indagini proseguono in tutte le direzioni.